Un altro weekend di sport, di turismo sportivo protagonista nella nostra città con la ginnastica. Saranno tre gli eventi in contemporanea, ovvero il quindicesimo International Rhythmic Gymnastic Tournament che si svolgerà da venerdì 16 fino a domenica 18 al padiglione di Campanara con protagoniste e migliaia di piccole atlete impegnate nelle varie performance di ginnastica ritmica ma questa volta saremo anche outdoor perché al Parco Miralfiore si svolgerà il 22esimo Trofeo International Gym accompagnato dal 29esimo campionato italiano di coreografia. Questo venerdì 16 e sabato 17 dalle ore 19. Entrambi gli appuntamenti sono due manifestazioni di carattere internazionale avremo infatti circa una dozzina di delegazioni straniere provenienti da tutto il mondo ci tengo a solidarmi, avremo rappresentative dal Messico, dalla Canada, da Malta, da Israele, dalla Bulgaria, dalla Slovenia Questi eventi sono organizzati appunto dalla Conf Sport di Roma un ente di promozione turistico particolarmente sensibile al mondo della ginnastica grazie al patrocinio e alla collaborazione del Comune di Pesaro che mettono a disposizione con il nostro intervento appunto quello di Esatur Group il Padiglione D e il Parco Miralfiore Per chi volesse partecipare agli spettacoli specialmente quelli al Parco Miralfiore tempo permettendo, ma ho visto che le previsioni sono clementi per il fine settimana naturalmente l'ingresso è gratuito presso l'anfiteatro del Parco si comincia alle 19 per finire intorno alle 22